Si parla semplicemente stavolta, signori, di Royal Family e della coppia reale, appunto estremamente popolare e conosciutissima sia in patria che altrove, altrove significa all'estero, che vuole essere presente nella vita dei propri figli mentre crescono. Ma credo che questa sia una cosa che certo dovrebbe essere normalissima. Attenzione che nell'immediato presente non è che sia proprio una cosa così scontata. Kate Middleton e William hanno deciso di mettere la famiglia al primo posto, chiedendo la fine dei lunghi tour reali che li avrebbero tenuti lontani dai figli e costretti ad ingaggiare una tata. Secondo una fonte reale, i duchi di Cambridge intendono dedicare più tempo ai loro tre bambini, George, Charlotte e Lewis, rinunciando agli impegni che li avrebbero portati lontano da casa per lunghi periodi di tempo. Jenny Bond, esperta di questioni reali, ha sottolineato che i giorni in cui i bambini venivano affidati alle cure delle tate durante i lunghi tour sono finiti per William e Kate. La coppia reale, estremamente popolare sia in patria che all'estero, vuole essere presente nella vita dei propri figli mentre crescono. La decisione di non lasciare i bambini alla tata durante i lunghi tour avrà sicuramente un impatto significativo sulla loro vita, ed è un segno del loro impegno come genitori e della volontà di bilanciare i doveri reali con le esigenze familiari. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.